e adesso torniamo a disegnare allora vediamo un po' adesso rifasciamo finalmente il protagonista partiamo dagli occhiali no 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 non Sacco il trono, no! Salve. Salve. Mi chiamo Anacleto, ho 21 anni. Ho deciso di partecipare al reality del fumettista perché voglio mettermi in gioco, voglio conoscere altre persone e penso di poter dare agli italiani con questo mio contributo degli scunti e delle ragioni di vita che magari attualmente non hanno. Bene, ma ti piace la figa? Ma da un punto di vista anatomico sinceramente ci sono parti del corpo che preferisco. Certo che in un'ottica di riproduzione o di strusciamento sessuale ha una certa attrattiva nei miei confronti. Ok Anacleto, sei stato scelto per fumettacci tua, il reality del fumettista. Cosa ne pensi? Grande, sono contentissimo che tu potrò dimostrare a tutti gli italiani cosa sono in grado di fare. Ho già in mente una storia, ci sono tre universi. Basta, basta, è tutto il cazzo, basti i nerd, sono tutti uguali sono. I universi paralleli. Dai, muoviti. Paralleli.